buongiorno buongiorno a tutti buon inizio settimana lunedì 7 29 gennaio allora ragazzi ieri sera io non ho messo il billion day ieri di solito la metodomenica ho avuto tanto da fare e poi avete visto ieri è uscito un tre su tre numeri non so se l'avete visti basta controllate quelle della settimana scorsa ora fino a sabato e però qualcuno è giocato lo stesso ieri sera ha preso tre numeri su million day e volevo chiedere una cosa che piano piano mollo a dare previsioni per troppo mi sono stancato mi fermo diciamo mi fermo un attimino mi faccio una pausa e con le previsioni perché ho voglia di riposare un attimo e poi veramente sempre poco poco tempo perché veramente un impegno però non vedo non so come spiegare però l'unica cosa voglia riposarmi un attimo e basta ok piano piano allora le previsioni di million day e poi anche oggi pomeriggio metto sempre nell'otto anche il 10 all'otto ok allora i numeri che sono da giocare ragazzi sono questi fino a sabato prossimo ok 16 17 38 51 55 e poi abbiamo 21 29 35 38 38 51 abbiamo 38 e 51 due volte per le persone che giocano il sistema ridotto ok speriamo bene per tutti come ho detto ho voglia di riposare e vediamo sì 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 mi metto a posto le mie cose dopo torno di nuovo normalmente ok tutto qua che vuole scriversi iscriversi lo stesso e canale per me non e poi un'altra cosa io cerco di abbandonare anche i gruppi per un po' lo sto già abbandonando piano piano i gruppi che vuole seguirmi mi segui sul canale youtube oppure anche forse anche un canale youtube mi formo lo stesso tanto per me non cambia niente con canale youtube con gruppi non mi cambia niente mi fermo un attimino nemmeno nemmeno faccio una pausa va bene per il resto tutto bene speriamo che voi state bene e alla prossima aspetto sempre leggo sempre vostro commenti grazie ancora di la fiducia grazie a quelli che mi seguono grazie ancora a tutti quanti allora questi sono numeri per il sistema ridotto avete capito c'è due numeri sono in più due volte 38 e 51 per quelli che giocano il sistema ridotto va bene ok auguro a tutti buona giornata buon inizio settimana ciao ciao da karim buongiorno 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 a tutti buon inizio settimana lunedì 7 29 gennaio allora ragazzi ieri sera io non ho messo il million day ieri di domenica ho avuto tanto da fare e poi avete visto ieri è uscito un tre su tre numeri non so se l'avete visti basta controllate quelle della settimana scorsa era fino a sabato e però qualcuno è giocato lo stesso ieri sera e ha preso tre numeri sommi di un day e volevo chiedere una cosa che piano piano mollo a dare previsioni per troppo mi sono un po stancato mi fermo diciamo mi fermo un attimino mi faccio una pausa e ho le previsioni perché ho voglia di riposare un attimo e poi io veramente un impegno però non vedo non so come spiegare però l'unica cosa voglia riposare un attimo e basta ok piano piano allora le previsioni di million day e poi anche oggi pomeriggio metto sempre nel lotto anche il 10 all'otto ok allora i numeri che sono da giocare ragazzi sono questi fino a sabato prossimo ok 16 17 38 51 55 e poi abbiamo 21 29 35 38 51 abbiamo 38 e 51 due volte per le persone che giocano il sistema ridotto ok speriamo bene per tutti e come ho detto ho voglia di riposare e vediamo se si si mi metto a posto le mie cose dopo torno di nuovo normalmente ok tutto qua chi vuole iscriversi iscriversi lo stesso al canale per me non e poi un'altra cosa io cerco di abbandonare anche i gruppi per un po' lo sto già abbandonando piano 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 i gruppi e che vuole seguirmi mi segue sul canale youtube oppure anche forse anche un canale youtube mi formo lo stesso tanto per me non cambia niente con un canale youtube con gruppi non cambia niente mi fermo un attimino e mi faccio una pausa va bene per il resto tutto bene speriamo che voi state bene e alla prossima aspetto sempre leggo sempre vostro commenti grazie ancora di la fiducia grazie a quelli che mi seguono grazie ancora a tutti quanti allora questi sono numeri per il sistema ridotto avete capito c'è due numeri sono in più due volte 38 e 51 per quelli che giocano il sistema ridotto va bene ok auguro a tutti buona giornata buon inizio settimana ciao ciao da Karim ciao